Guido Guidesi, il governo Renzi ci riprova, arriva il terzo Salva Roma alla Camera dei Deputati, la Lega Nord farà battaglia? Lega Nord farà battaglia perché l'obiettivo è che non c'è due senza il tre, sono saltati i primi due decreti Salva Roma, questo è il terzo tentativo e noi faremo la stessa battaglia che abbiamo fatto sugli altri due sperando di ottenere gli stessi risultati. Quali emendamenti avete presentato? Abbiamo presentato circa un terzo di tutti gli emendamenti presentati, per cui abbiamo presentato tantissimi emendamenti proprio perché vogliamo fare ostruzionismo, ma sono anche emendamenti di contenuto perché il decreto ha 20 articoli, di questi 20 articoli parecchi riguardano la finanza locale, per cui abbiamo tentato di aggiustare alcuni contenuti di questo decreto per favorire i comuni, i comuni virtuosi e poi c'è un articolo che riguarda invece il Comune di Roma e noi tenteremo innanzitutto di sopprimere quell'articolo e poi di cambiarlo facendo in modo che il Comune di Roma abbia le stesse identiche regole che hanno gli altri comuni e non continui a sprecare come sta facendo. Secondo la Lega Nord, quale dovrebbe essere il futuro di Roma per superare questa situazione di dissesto economico? Dovrebbe avere un commissario, il governo dovrebbe indicare un commissario vero, un commissario esterno, un commissario che sostituisca la giunta, un commissario che si occupi del risanamento del Comune. Risanare il Comune di Roma vuol dire provvedere a quelle tantissime società partecipate che ha il Comune di Roma, circa 26, queste società partecipate hanno più di 30.000 dipendenti, il Comune di Roma ha più dipendenti dell'intera Fiat e le sue municipalizzate hanno più dipendenti di tutte le altre municipalizzate d'Italia, dei comuni d'Italia. È una cosa che non può essere sostenuta ovviamente, ma siccome le giunte siano esse di destra o di sinistra che hanno in questi ultimi 20 anni amministrato il Comune di Roma, si sono comportate tutte allo stesso modo, qui c'è bisogno di un commissario esterno che provveda e provveda nel rispetto anche dei soldi di tutti i cittadini.